Oggi facciamo insieme il Profitterol. Grazie a tutti. Per rimanere aggiornato su altre ricette iscriviti e attiva la campanellina. Se mettete 10 minuti in frise il contenitore per montare la panna, risulterà più facile montarla. Grazie a tutti. Se volete la ricetta del mio bignè cliccate qui sopra. Grazie a tutti. Per una buona copertura dei bignè unire la crema diplomatica con il cioccolato. Il risultato sarà una copertura più lucida e golosa. Per decorare oltre alla panna potete usare ciuffetti di crema codetti. di cioccolato o lamponi freschi. Buona sera a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!